Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darkfalle Channel Con un nuovo video su Minecraft Come vedete al cavallo pazzo che sta volando sono in compagnia di mio fratello Lack E ci troviamo sul server Mindplex nel pieno in descrizione Per portarvi un nuovo episodio della serie Star Wars Ovvero quella serie dove ci sono due team e ci dobbiamo tirare affrecciate negli occhi Questa è la descrizione migliore che sono riuscita a fare Comunque lo scorso episodio l'ho registrato con XDani Quindi se volete andarla a vedere vi consiglio di andarla a vedere E oggi sono con Lack come ho già detto Quindi vi ricordo di spolliciare qua sotto se vorreste vedere altri episodi Dovremmo arrivare a 500 o 600 like Fate come volete Lack a quanti like dobbiamo arrivare? 500 Lack si è un tier che vabbè arriviamo a 500 like 550 Ok Comunque guys vi ricordo anche di commentare No è troppo poco Comunque ragazzi vi ricordo di lasciare un commento qua sotto Se vorreste vedere qualche nuovo minigioco Perché io non ho idea sinceramente su che nuovi video di portarvi Dato che sono sempre gli stessi che ci sono in circolo per il momento Però se magari voi ne conoscete qualcuno Commentate qua sotto Spolliciate il commento migliore Io guarda la scala che ho fatto cioè proprio scala imperiale Ok la c'è un po' di gente camperata Comunque questa mappa Già l'abbiamo fatta forse qualche volta Non mi capita mai una mappa carina quando recco La c'è il ghost Il panda Ok l'abbiamo ammazzato Oh c'è il tuo fan Ah c'è un mio fan C'è uno sulla torre a sinistra Che Insieme Ma io non voglio morire con te Ok ragazzi se questo fosse il primo piccolo solo Di che state vedendo Praticamente Quali sono tipo 4 Ogni kill che si fa La linea avanza Io ho ora del panda E qua dietro il panda l'ho ammazzato Stavo aspettando che qualcuno si affacciasse Non dire no al panda Non dire no al panda Là c'è il superman Supersman Ok sono blocchi tutti e due là dietro Certo che il loro muro potevano farlo meglio Perché più Non ha niente di muro Poi c'è il tuo panda C'è il panda Come il panda No cavolo Vabbè il tuo fan mi ha dato Uuuu Dark ci muore Ok ragazzi Nello scorso video Il primo mi hanno chiesto Dark ma è inedito naturale Oppure ti sei allenato a usare l'arco Sinceramente Io non mi alleno Cioè quando registro registro Quando non registro Non gioca a minecraft Quindi si ho preso la luck Luck c'è il panda Che saltella come Un canguro Sono tutti dietro col muro Ci stanno Chiudendo C'ho paura Panda Ok l'ho ammazzato Io sto tirando frecciacassi In mezzo ai bruxi Uuu ho fatto una cross the map Uuu nice Comunque stiamo vincendo Non di tanto Partita molto Molto stabile Equilibrata Luck c'è il superman Che ti sta lasciando da sotto Uuu nice Attento Boom Trae la cross the map Il jump Ragazzi quel colpo Non so come l'abbia fatto Però va bene Non Costruisci Costruisci Avanzo Costruisci Costruisci luck Io faccio il doppio muro Così non c'è Però non bastano i blocchi Per il doppio muro Sì Me lo faccio io Sì No perché se lo fai tu Durano di più i blocchi Ok luck 3 2 Ti faccio uno che ti sta mirando No Perché ogni volta Tiro la freccia un secondo prima Ok Poveretto quello c'è morto Con la sopra Proprio c'è morto ancora Ragazzi inutile Mettersi a camperare La sopra Anche se adesso Mi ha ammazzato questo Perché siete troppo fermi Secondo me Per vincere sto minigioco Uno si deve muovere sempre E tirare le frecce Secondo te luck C'è il tuo fan in prima linea Lo so l'ho visto Senza skin E' vero C'è se un server solo premio Come fa a essere senza skin O è buggato Perché stai facendo un'altra missione No 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 Guarda l'altra Buongiorno Uuuh Accorreste map Annoldon Ora sta puceando il fantasma Sta puceando il fan Che cavolo è quello schifo Non dire no al fan Qua dietro Qua dietro L'ho visto Aspetta che lo becco da sotto Non so ragazzi se lo becco Io ho intimi L'ho preso il piede No you suck make Legge 20 milioni di like C'è il tuo fan E' ammazzato Tobia Tobia Comunque Ti sta ammirando Però lo puoi ammazzare abbastanza health Mi raccomando Comunque stiamo Il panda Ci hanno gambeccato Che partiva epica Ah Ma che ti prego Ammazzalo Sto giocando solo io Del mio team Dov'è anche rompe le palle Si può costruire? Il culo Ok L'ho preso in testa Gli ho messato un paio di colpi Perché Non lo so Non lo volevo ammazzare Per voi Ci ho ripensato No Stanno vincendo No Stanno vincendo Ragazzi E' impossibile Perché ho fatto un casino di kill E loro ci morivano Cioè o sono solo io Sto killando O c'è qualcuno No ma alcune volte Il tab è buggato Quindi non ti fa vedere Realmente Con le guardie attorno In effetti siamo In minorità numerica No No Hold on Ci dobbiamo concentrare Luck Ci siamo solo noi due Possiamo killare Mettiamoci una accanto All'altra E ammazzamoli tutti No Build time Anche io Ci avevo concentrato A tirare le frecce Io Perché non può Eh luck Tutto buggato Come faccio a prendere Sti blocchi Non lo so Vabbè Ecco Possiamo ricombattere Ok Preso L'accelo mio fan Dai Non ci posso creare Sempre Noldon Luck C'è il fan che sta pushando Ho visto Frizzati in aria Uh luck Infatti No vabbè Bella rata C'è il panda che sta pushando Merda Non siamo messi nella posizione migliore E manco franzo game Siamo franzo Ok Tiro le frecce a caso Ma questo Il fan mi sta dando problemi Cioè ci sta provando a ammazzarmi Qui c'è il panda Che è convinto che io non lo ammazzi Salve panda No Non ci posso credere Non l'ho ammazzato No vabbè Il panda non ha ben capito Come funziona qua Con la cosa Cioè se si vedono i piti Lui ci muore lo stesso Però non l'ha capito Ok siamo 4 contro 5 ragazzi Quindi è questo il motivo Perché ci stanno Riuscendo a tenere testa Questo partire tipo durerà Folle push Push 1 Push 1 Il panda Il panda Il panda Aiuto Aiuto Mi ha salvato la vita Ti crucro Ti crucro Io ho ammazzato il fan Perché sì Bisogna ammazzarlo Super No Superman Chi ti ha preso il fan Ezra Ti ha fatto una cross the map Kill the enganci Freccia Superman non ci muore No devo ammazzare quelli che sono dietro quel muro Per forza Mi stanno tirando da tutti i posti le frecce Noldon Mazzi partita combattuta Però si può fare Si può fare Siamo 30 a 32 Il panda uccidere il secondo È una partita epica Solo perché ci sono io E ora stiamo riuscendo a tenere questa Uccide il tre Insomma Il tre Noldon per la ventesima Molti fila Mi ha ammazzato Siamo in bull time Meglio così Almeno perdiamo tempo Ci serve una posizione di vantaggio ragazzi Dobbiamo riuscire a costruire qualcosa Qualcosa che Non posso Uccide l'acqua Una mini torretta Una mini torretta L'acque tecnico tattico Proprio lui oggi È finita la stessa Non si può costruire Elza Buongiorno Boom Era accanto a lui Non se ne era accorto Basta Hacque concentrate Facciamo vedere la nostra skill Ok Uno 3 di fila C'è il panda qua dietro Di sicuro Vedo qualcuno Mi ha dato i blocchi A caso Ok Allora Stiamo avanzando Per ora stiamo vincendo C'è uno qua dietro Che vuole rompere Questo blocco Per lasciare Rompilo No dai Stai pusciando il panda Ok l'ho preso in testa Ok nice L'ho ammazzato Non voglio switchare Perché so che ogni volta che switcho Poi mi viveca Panna sta facendo Non so cosa Sta saltellando Ancora il panda che rusha No sono messo in una posizione bruttissima 40 a 22 Possiamo chiuderli Eh ci stanno cambiando di nuovo C'è la zucca C'è la zucca No Perché te ne frega della zucca L'hack Stai pusciando il panda Ho visto Sono in due che pusciano Il panda è eliminato C'è un altro però Eh vabbè Non hanno mira E rushano Eh vabbè Mi ha beccato un order Non so spawn Lo so che è il nostro spawn Non si dovrebbe fare Tecnicamente sta cosa E ci so È morto È morto Uh Across the map Ho beccato Ezra Luca c'è il panda Alla tua testa Dietro col muro Beh 30 a 32 Partita Impossibile Non vi porterò manco Un taglio di questa partita Perché deve assaporarla tutta Fino all'ultimo Restiro Eh mi sta pusciando uno Nice Attento che c'è un altro Il panda è stato pusciato via Ok Buil battle Buil battle Passo di costruzione Dobbiamo riuscire a bloccarli Doppio muro Non lo so Luca Ci sembra quello così Tecnico tattico Inventato sul momento Ma non il muro così Questo qua mi sembra come impalcatura Ac No no Fai il doppio muro Ormai ci stanno Sono arrivati Dai Ezra saltella Forza Nicchiopo Dai Non Ragazzi non è possibile Luca sono rimasti in tre loro Vinciamo per Egequit Forse Per Egequit Perché le abbiamo fatti quittare Perché siamo troppo forti Siamo in meno Cioè eravamo in meno E siamo usciti lo stesso A tenergli testa Che cosa No Ok Uno eliminato Uno chiuso nell'angolo Non sono morto Dai Ora mi devi spiegare Come ha fatto a uccidermi Comunque è stata Secondo me la partita Più lunga Che abbiamo mai fatto Siamo quasi a Dieci minuti di partita Ragazzi Dieci minuti Ma non sono in tre folle Sono in cinque Adesso sono in quattro Allora è buggata La cosa del tablac Perché se vedi Sono in quattro O manca qualcuno Che è nascosto Non mi sembra Una buona posizione Cosa? Vabbè mezzera Catch su coppa Ezera Ma è il panda Che ruscia Ok Stato pushato Allora stiamo vincendo Lack So close Possiamo farcela Ezera sta shiftato Quella cosa mi dà abbastanza Mastica Boom Mezzerato L'ho visto Guarda qui due folle Guarda lì Guarda lì Eh ma Si può fare Abbiamo vinto Guardato Lack Si nice Lack Dobbiamo vedere Quante kill abbiamo fatto Più 49 Si io 16 Vediamo quante abbiamo fatte GG D Grazie Noldon Anche tu ti sei comportato bene Ho fatto 27 kill Tu Lack Ah più bello Quante ne fatte Quindi ragazzi Questo video assurdo Finisce qui Siamo riusciti a vincere Nonostante Eravamo Molti meno Però alla fine Sono quittati Quindi vi ricordo come sempre Lasciate tanti like e commento E ci becchiamo domani Con dei nuovi video Ciao ciao ragazzi Ciao 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 ciao